Prima di chiudere però vi lascio al servizio sulle politiche per l'agricoltura e macchine agricole. Federuna Coma ha presentato alla Fiera di Foggia la prossima edizione di EIMA, uno dei più importanti appuntamenti del settore. I dettagli nel servizio. Grazie per essere stati con noi e a più tardi. Cinque giorni per parlare di agricoltura e di politiche agricole a tutto tondo. Un grande appuntamento di scambio e confronto alla presenza delle autorità politiche pugliesi e delle associazioni del settore. È la sintesi della 67esima edizione della Fiera Internazionale dell'Agricoltura e della Zootecnica tenutasi a Foggia, un tavolo virtuale che ha riunito produttori, tecnici, organizzazioni di categorie, associazioni e soggetti pubblici. Tra gli attori principali presenti all'appuntamento tradizionalmente dedicato ai macchinari e alle attrezzature agricole, Federuna Coma, la federazione nazionale costruttori macchine per l'agricoltura che ha curato il padiglione della meccanica agricola e organizzato workshop e attività collaterali con l'obiettivo, tra gli altri, di presentare la 42esima edizione di EIMA, l'esposizione internazionale di macchine per l'agricoltura e il giardinaggio. La partecipazione a Foggia è anche propedeutica alla prossima edizione di EIMA che si svolgerà a Bologna a novembre dal 9 al 13 e quindi qui siamo venuti dagli amici pugliesi proprio per presentare, per divulgare l'informativa di EIMA e sperando che vengano numerosi a visitare EIMA la prossima edizione.